C'è che può ucciderlo Uppacchi Uppacchi Dipende 153 Eh mi sa Eh a meca Si sparano Eh però è dalla parte di crossroads Secondo te lo one shot Si Eh dalla parte del casotto rosso Player Poi non vedo un cazzo di nessuno Oddio no c'è il cecchino Oddio no c'è il cecchino Te lo faccio fuori io Te lo faccio fuori io Fatto Ma qua non ci sta un cazzo di nessuno Dimmi tu se dobbiamo andare a crossroads O oppure ce ne andiamo qua a dormitorio Ehm E sarà vicino Eh si Eh si È verso zona nuova no? Mmm Forse più in là Uh wallet Vieni quando hai fatto Ho fatto Andiamo Non a beccare sti player Non a beccare sti player Zona nuova Comunque gas station Si Probabile hold Perchè da qua si sentono bene Anche le cose da hold Ah C'è ragione Dimentico sempre di questa parte qua Dimentico sempre di questa parte qua Ok No sono qua Eh si Tipo ponte Troppo Eh si sembra un troppo di Non mi sembra di vedere nessuno Su ponte Provo di uscire qua dal bosco Dalla breccia Io sono fuori dal container Sto arrivando al container Sto arrivando al container Sono fuori Di fronte ai camion Per strada Sono dietro di te Ok Credo che sia O sono C'è uno sdraiato Si è dietro ai camion Sinistra Ah no Questo è uno scav Oh c'è C'è uno che spara silenziato qua Da te? Si Penso sia oltre il ponte O Allora la factory è aperta Allora la factory è aperta Non vedo corpi Ho sentito a destra Aia ok mi sta prendendo Non so da dove Sicuramente oltre Credo che sia dentro la factory A qui a destra Ok qua c'è un morto Dove c'è la factory Questo è Credo all'angolo Su una macchina forse Sta salendo Sta saltando Mi è arrivato un colpo Non so da dove Te controlla lì Guardo se questo salta Eh ma mi è arrivato un colpo Da dietro mi sa Credo Ok sono qua dietro Sono Ok l'ho visto Al camion Dei cosi Dei medici Lì L'ambulanza Ok l'ho visto l'ho visto l'ho visto Però ce n'è uno dentro la factory eh Io sto facendo il giro Dai treni A quell'altro Eh cerco di ucciderle Quello dentro la factory Ah la gas station Te dove sei ora? Alla gas station Ok allora ti ho visto che stavi andando a sinistra Non capisco se è player o scapp player No no player Ok ti vedo Corro da te È dato nel retro ma non ho capito se è uscito ed è scappato O è ancora dentro la gas station Aspetta faccio il giro di qua Ecco è dentro è dentro nel corridoio Ok passo dalla Del retro Ucciso Entro dentro Pulito Ucciso E' attento c'era il compagno Se fu serio il compagno Lasciami forse anche la 6ks Così ho qualcosa da distanza Ah Te l'ho buttato Fa un culo Aveva colpi Ha bautato va benissimo Ok lo sento Sta saltando Chissà che l'ho ucciso Si l'hai ucciso L'hai ucciso Bo quello aveva roba Eh 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 Alla piastra Fai tu fai tu Arriva koopa Mica l'ho preso in fa Aspetta ho il caricatore dellsks per caso No no prendo le cose di questo Oh yeeey Minchia Bello È silenziato la k Ehm Per te Oh cazzo non lo sto più lottando Eh si uno si Sai che è molto probabile che fosse quello dentro alla factory che dicevamo prima Eh si si mi sa che era quello dentro Senti vado a lottarmi quello alla factory Ok Mh mh Ok Oddio cosa c'è da qui Sto cos'è da qui Ok Ah ma aveva un hppino di merda No ho sbagliato Quello che ho ucciso è un livello 11 Ah si Ah si Dove sei dentro la factory? Si si sono entrato Stavo controllando Mi sa che era proprio lui che abbiamo ucciso GG Bello Ma non ho capito se erano compagni o cosa Eh mi sa Sto arrivando da te Eh adesso devo trovare la riro to darko perché ancora non ho capito dov'è Perché il porto devo tornare tutto indietro Se siamo dentro la factory Francesco ... I social military checkpoint Cosa aveva questo bellissimo hpp poi Un altro kp poi Un altro kp così aveva il gen Eh Lzsh Te l'ho preso dritto nel viso c'è un buco più grosso Eh Lo che aveva Mosin dentro lo zaino Aspetta mi dicevi La railroad to Tarkov Qual è scusami Devo tornare indietro? Si Che palle Anche perchè siamo solo a 37 minuti A 34 minuti Quindi secondo me qualche altro player lo possiamo trovare Eh però mi sa che io Cazzo ce l'ho 19 è qualcosa da bere Nugazzo Vabbè esce tanto military checkpoint è qua Cos'è che hai scusa military checkpoint poi? E administration gate Administration gate è quella dietro No è quella in fondo di là Quel cancello in fondo Ok Allora Quella che c'è anche te Ah no è vero che ora La macchina È un'uscita diversa Quindi Eh quindi ora te la vado a cercare perchè non mi ricordo mai bene qual è Perché puoi provarne due Oh Allora io la porta so qual è La porta è quella Dove c'è Military checkpoint dove cazzo li devi infilare No mi sa che non è quel No vai all'administration gate coupa Vieni qua Dove sono io vieni Administration gate è il cancello là in fondo Vai là Per estrarre È proprio quello là in fondo Io è dritto davanti a te non puoi sbagliare No io so dove è la Allora o dove c'è il ponte dall'altra parte Allora dove c'è il ponte Guardando il ponte dalla nostra porta Tutto a Dalla nostra parte tutto a destra Allora tutto a destra se io vado dritto di qua Tenendo sempre il muro a destra arrivo alla railroad to port La quella di turtle non so dove è invece Che di ferrovie c'è che sono un casino Quella qua in mezzo è la railroad to military qualcosa Poi in realtà c'è Ci sono i binari dove c'è la old gas station E poi ci sono i binari dove c'è la tua